Buongiorno e benvenuti in un altro video dedicato questa volta agli acquisti che ho fatto da Amazon. Ho preso quattro di questi fascicoli librettini che servono per il journal, junk journal e così via. Allora ho preso anche delle cartoline sempre da Amazon, ve le ho mostrate qualcuna anche nel video precedente delle mie creazioni che ho inserito in un taccuino. Ci sono anche altre tipologie, io ho scelto questa, dei monumenti praticamente del mondo da mettere appunto dentro in vari junk journal, queste sono insomma anche delle foto più famose però insomma sono carine ecco, dopo si possono anche utilizzare per spedire se uno vuole. Leggevo nelle recensioni che essendo molto lucide si fa fatica comunque a scrivere per quelle ragazze magari che sono appassionate, so che tante le utilizzano appunto le ragazze appassionate di corrispondenza così con le varie grazie, con ragazze di vari paesi. Le trovo davvero davvero carucce. Il pacchetto così tutto intero, adesso credo che siano 50 cartoline, non mi ricordo. 32 pezzi per una misura di 10 per 14 centimetri, di averle pagate sui 10 euro. Questa vabbè è una delle più famose. Il ponte, Central Park, la torre di Pisa, il Colosseo, la statua, questo sarà New York. Venezia, Londra, qui non si sa, non so che monumento sia, e queste. Molto molto carine. Poi dopo ultimamente c'ho la passione delle illustrazioni quelle nautiche, c'è tantissima roba su Pinterest, ma insomma mi piaceva anche acquistare questo libretto che è di una, non so se sia questa l'artista che ne ha fatte diverse, adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque ho preso questa versione qua, ce ne sono delle altre, io ho preso questa versione nautica e c'è un po' di tutto. Poi c'è qualcosa che mi piace di più, qualcosa che mi piace di meno. L'azienda è Prayer Art, ne ha fatti tanti di libricini, ci sono varie anche tipo di grafiche. Mi piace perché la parte dietro non è illustrata e quindi si può andare a ritagliare senza sentirsi dispiaciuti per tagliare la parte dietro. Quindi vabbè, abbiamo tutto questo mondo delle sirene, questo non è che mi interessa molto, però mi piacciono di più queste cose qua, queste insomma, così e così. Come vi dicevo, su Pinterest c'è tanto, c'è tantissimo, dopodiché a volte alcune foto, alcune immagini quando si stampano sono sgranate, però insomma dai, per avere qualcosina anche così a portata di mano, da guardare, da ritagliare al momento, non è male questo libricino, che tutti i quattro libricini, bene o male, vengono sulla stessa cifra di 10 euro, 11 euro, siamo sempre lì, non ci scostiamo molto. Bella questa etichetta qua, questa immagine, mi piace un sacco, qui abbiamo delle scritte così. Poi naturalmente uno se non vuole ritagliare, fa le fotocopie, che credo sia la cosa migliore. Questo è bello, questo insieme di fari, per fare un collage, per fare appunto una pagina, anche questo mi piace molto, belle queste immagini con tutti i pesci. Ecco, mi aspettavo che ci fossero pesci anche da ritagliare, invece no, non ci sono. E questo è uno. Poi, altro libricino, Vintage Letters, ce ne sono di altri tipi anche di questa marca qua, marca che è, questa è la, chi l'ha creata è Amelia Wentworth, penso ce ne siano diversi, altra tipologia, questo devo dire che mi è piaciuto molto. Qui abbiamo, però, davanti e dietro. Non capisco perché fare così, se non magari per fare delle buste, cioè perché uno fa la busta e ha bisogno che sia decorata anche all'interno. Se no, non ci vedo il senso. Boh, vabbè, comunque, va che bella anche questa. Bellissima questa. A me piacciono meno quando sono tanto scure, questa mi piace tanto, con il blu, il rosso, il nero. Ah, vabbè, ma nel Junk Journal è anche vero che si utilizza, se dobbiamo utilizzare la pagina, ecco, non mi piace il fatto che bisogna strapparle e che non si ha qualcosa di tratteggiato, trovo che è una cosa molto più comoda. Purtroppo in questi libricini è così. Per il Junk Journal, effettivamente, si ha la pagina decorata sia da una parte che dall'altra, sì, giusto. In effetti, credo che nascano anche proprio per quello, per fare delle pagine per il Junk. Comunque, questo è carinissimo, eh, mi piace. Di questa serie ne prenderò sicuramente qualcun altro, se lo vedo, se mi interessa. Anche questa è una bellissima pagina. Qui, come vedete, pagina intera, non c'è da ritagliare proprio qualche particolare. Ma che carina anche questa. Bella, veramente, sì. Mi piace tantissimo. Poi, sapete, insomma, che nei Junk o nel Journal, in chi lo fa, non siamo tanti in Italia. In Italia non è molto diffusa questa pratica, questa cosa creativa. Ehm, però, insomma, appunto, in queste, nel journaling e via dicendo, si fa, si utilizzano tanto i giornali. E quindi ho provato anche questo. Me l'aspettavo un po' più grande. In realtà, mh, c'è scritto tutto su Amazon. È che io non ho, non ho letto. Ero convinta che fosse grande come questo. Invece è più piccolo. Anche qui, davanti e dietro. Eh, qui sicuramente farò delle fotocopie. E questo mi sembra che è scritto in russo, francese. E tutte immagini di giornali. Che si possono anche questi utilizzare per il Junk Journal, appunto per il journaling. Speravo che ci fosse qualche immagine più chiara. In realtà di questi giornalini non c'è nessun video, non c'è nessuna foto. Mettono soltanto la foto della copertina davanti e la copertina dietro. E l'interno non mettono foto. Però dai, tutto sommato, si è stato un po' un acquisto al buio, diciamo. Però dai, non ne sono rimasta delusa. Carino. Non so se lo riprenderei, magari. Ce n'è anche altre tipologie. 20 disegni. Insomma, per il prezzo 10 euro. È tantino, eh. Però, poi invece, forse quello che mi ha deluso un po' più di tutti è questo. Questo è un coso di pagine, un coso. Allora, intanto non ho detto che le pagine sono molto leggere, ma lo vedete che sono proprio giornaletti con pagine leggere. Non c'è nessun cartoncino qua, eh. Stessa cosa in questo che ce ne sono vari tipi, varie fantasie. Questo mi serve per degli sfondi. Anche magari per decorare dei tacuini, no? Per fare le copertine. Sinceramente mi aspettavo decorazioni diverse, anche più piccoline. Però, anche questi per i junk journal non sono male. Oppure come rivestimento di copertine, di tacuini o anche di fare midori. Prezzo 8,50 euro. La carta è bella perché è lucida. Però, insomma, un po', ecco, questa mi piace tantissimo. Forse quella che mi ha fatto fare l'acquisto preferivo, appunto, immagini così, più piccoline. Molto carina anche questa. Va bene, un po' piccolino, 8,50 euro. Mi sembra un po' tantino. Beh, effettivamente non sono proprio così economici. Vabbè, una volta ogni tanto ci sta. Vi mostro anche i timbri. I timbri che ho preso, avevo promesso che vi avrei mostrato i timbri. Qui si sono arrivati da... Sono arrivati da Aliexpress. Tutto questo qua fatto di ticket. Adesso vedrete il blu perché io l'ho utilizzato anche con l'inchiostro blu che mi piace molto. Anche rosso e nero. Però anche il blu sta molto bene nelle varie decorazioni. Non so se si riesce a vedere. Mettiamo sotto qualcosa, ti prego, di bianco. Cerco qualcosa di bianco da mettere sotto. Ecco qua. Ho messo sotto un foglietto bianco così si vedono bene. I vari ticket, sempre per le solite cose che faccio io. Se siete interessate al link mi scrivete su Instagram in privato. Che vi do il link. Non sto a scriverli sotto qua. Se siete interessate. Questo insomma è uno dei timbri. Saranno sicuramente quelli di Tim Holtz. Che naturalmente Tim Holtz fa pagare una certa cifra, ovviamente. Poi su Aliexpress, noi poveri, comuni e mortali. Io vado ad acquistare i libri che costano 5 euro. Però a differenza di quello che costerebbero normalmente, che sono anche 40 euro. E poi ho preso questo. Il postal card che va tantissimo come timbro, il postal card. Poi abbiamo insomma special delivery. E tutte cose di spedizioni. Il dito puntato che va tantissimo. Il timbro insomma del classico timbro che si utilizza per le spedizioni. Stampa, airmail, insomma. Anche questo. Poi c'è anche questo special delivery molto carino. Tutto scuro. E poi ne ho preso un altro dei pesci. Che è questo qua. Che è veramente caruccio. Peccato però che un pesce mi sia arrivato rotto. Però non importa. Un pesce è così. Con la testa mozzata. Però è lo stesso insomma. Funziona comunque. E vi ho fatto vedere che l'avevo timbrato in un taccuino nel video precedente. Questi sono i timbri. Un pesce bello grande così con tutte delle scritte sotto. Questo è il pesce spada. Molto molto carina. Anche questi. Anche questa tipologia di pesci. E adesso. E adesso vi mostro l'ultima creazione che ho fatto. Ultima. No. Una delle ultime. Perché ve le ho mostrate anche l'altra volta. Tre. Ho fatto un altro album. Diciamo che questo l'ho fatto prima delle cose che vi ho fatto vedere l'altra volta. Sempre ispirata da Scrap Passion. Con tante fustelle che ho acquistato. Quindi insomma ho utilizzato parecchio la Big Shot. Scrap Passion. Monica. Ha fatto. Ha messo i cani. Io invece ho sostituito tutto con i gatti. Ovviamente sendo un appassionata di gatti. Ho messo più quello che mi ispirava. Sempre questo medaglione da tenere fermo. Insomma tu il tutto. Bello. Gonfio. Pieno. Di cose. Meravigliose. Meravigliose per me. E qui abbiamo una prima cornice. Lei infatti ha messo un cane. Un scottish. Mi sembra terriere. Io ho messo invece il gattino. Quello della stamperia. Questa cornice è una di quelle imbottite. Che per farla così imbottita. Ho utilizzato questa tipologia di scotch. Ho fatto la cornice con il cartoncino. E poi l'ho rivestita tutto con questo scotch. Sapete questo gommato. Che serve per... Scotch gommato. Che serve per rivestire nastro biadesivo in schiuma. Per dare appunto questo effetto più cicciotto. La solita etichetta. Con il solito numero. E questo. Naturalmente io mi diverto un sacco a fare questi album. Perché ogni giorno mi dedico a una pagina. Questa porta... Porta posta. Porta quello che vi pare. Questa foto. Che adesso si è mezza incollata. Ecco no. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori. No. Guardate con questa signorina. Sempre le stesse immagini che piacciono a me. E che naturalmente prendo ispirazione sempre da questa Monica. Libricino. Che è fatto così. Con una cartolina. E poi il classico gioco. Questo qua. Che mi piace tantissimo. Che mi diverto a fare. Una cosa che ci metto un po' a fare. Però dopo è davvero soddisfacente. Quando si è fatto. Il solito cosa a portafoglio. Insomma. Che va inserito qui dentro. Allora. Gli album. Le famose. Vi dicevo anche. Vi avevo accennato anche nell'altro video. Le famose cornici. Alla fine ho comprato tante fustelle. Sapete che vi avevo chiesto in un video un aiuto. Ma avete detto appunto che era una fustella. Quella con il doppio tratteggiamento. Doppia tratteggiatura. E che quindi poi ho comprato la Big Shot. Ho comprato una marea di fustelle. Che purtroppo non hanno. Non fanno la doppia tratteggiatura. Ma ne fanno solo una. Vabbè. Adesso qui ne ho messe un tipo. E un'altra. Aggiunte insieme. Così faceva il doppio. Doppia fantasia. Però. Praticamente è una cornice unica. Quella che dovevo comprare. E che ho preso. E che arriverà. Però intanto nel frattempo. Io le ho fatte. Con le fustelle che avevo. Lo so. È un discorso. Anche lungo. Ma. È anche noioso. Magari per qualcuno. Ma. Io ci tengo. A spiegarle. Queste cose. Perché. È una cosa a cui tenevo tantissimo. Va bene. Qui abbiamo. Portafoto. Che naturalmente. Io. Inserito dentro. Queste immagini. Mi piacciono un sacco. Con le plastiche. Altra. Ci andrebbe qui. Un'altra foto. E poi. Qui abbiamo. Invece. Un libricino. Di quelli. Fatti così. A portafoglio. Ho fatto anche il video. Per come fare. Questa tipologia. Di buste. Dentro. Ci ho inserito. Vedete. Diverse. Cartine. Con i gatti. Con le signorine. Quindi. Poi. Ho applicato. Vari. Tab. Utilizzato. Con davvero. Gioia. La rivettatrice. Perché. Questo. È stato. Uno. Degli acquisti. Più. Fantastici. Che avessi mai. Potuto fare. Non so. Veramente. Qui. Abbiamo. Altre decorazioni. Una cartolina. Una. Scusate. Una busta. Fatta sempre. Con la. La fustella. E qui. Abbiamo. Un libricino. Fatto così. Io. Ci ho inserito. Un gatto. Lei. Non mi ricordo. Cosa aveva inserito. Vabbè. Qui abbiamo. Varie cartoline. Questo. È fatto. Con le buste. Un libricino. Fatto. Con le buste. Così. Che poi. Tengo fermo. Da questa. Aletta. Che. Sarebbe. Una di quelle. Che. Insomma. Per trovarla. Ci ho messo. Una vita. In teoria. Sarebbero. Quelle. Che si usano. Per tenere. Fermo. Nei quadri. Il ritratto. Per tenere fermo. Il. Il fondo. Del quadro. Adesso. Non so. Come spiegarvi. Però. Servirebbe più grande. Ma io ce l'ho. Piccola. Così. Poi. Altra. Cartolina. All'interno. Di queste. Trasparenti. Con questa. Bimbetta. Che sono. Quelle immagini. Di quelle. Bambine. Che andavano. Vestite. Non so. Se ve le ricordate. Io da piccola. Ci ho giocato tantissimo. Mi appassionavano. Tantissimo. Queste. Bamboline. Che andavano. Con i vestiti. Con le linguette. Adesso. Riusciremo a rimetterlo dentro. Ma si. Abbi fiducia in te. E poi. Abbiamo una busta. Con una spedizione. Speciale. E sono. Questi due. Gattoni. Plastificati. Un barattolo. Che si apre. E che dentro. Contiene. Un. Quadernino. Così. Altra card. E qui. Con la fustellatrice. Ho fatto. Questa. Come si chiama. Questa. Queste. Queste. Tasche. Queste. Tre tasche. C'è appunto. Questa. Sagoma. C'è questa fustella. Fatta. Così. A tre. A tre. Taschine. Che poi vengono. Ce n'è una parte. Per ricoprire. Vabbè. Insomma. È una storia lunga. Che non sto qua a dire. E qui. Abbiamo. Un altro. Di quelli. Che si aprono. In questa maniera. Con varie card. Un altro portafoglio. Fatto così. Altra. Card. Da dentro. Con questo bel gattone. E qui. Abbiamo. Invece. Ho fatto. Due. Buste. Qui c'è sempre. Un bel gatto. Della stamperia. Chiuse. In questo modo. No. Buste. Sono tre. Tre buste. Con tre meraviglie. Tre gattini. Questa qua. È la carta. Della tassotti. Che mi aveva regalato. Ancora. Mi è stata ancora regalata. Qualche. Un compleanno. Due fa. Che è una bellissima carta. Della tassotti. Che fa delle carte stupende. E questo. Poi. Lo chiudo. Così. Con il fiocchettino. Qui. Cosa avremo mai. Di quelli. Di quelle buste. Che si. A scorrimento. Così. Un piccolo. Card. Qui dentro. E poi. Siamo arrivati. Alla fine. E qui. Ho messo. Delle cartoline. Così. Non ho. Esattamente. Fatto tutto. Quello. Che ha fatto lei. Insomma. Ovviamente. E poi. Dopo un certo punto. Faccio anche quello. Che mi pare. Quattro. Cartoline. Così. Sempre con. Le immagini. Queste qua. Che mi piacciono. Tantissimo. Anche dell'abiazione. La bambina. Che guarda. La bicicletta. E un'altra tasca. Dietro. In questo modo. Che ha. Questo. Specie di campionario. Diciamo. Con questi tag. Un tag. E poi. Un libricino. Che è questo. A quadretti. Con questa carta. Così. E ho messo davanti. Questa hostess. E questa è la fine. Del mio album. Il retro. È fatto in questa maniera. E poi. La costa. È questa qua. E questo. Insomma. È. Mi sono dedicata. Veramente. Tantissimo. A questo album. Ma poi. La soddisfazione. È grandissima. Andrà insieme. A tutte le mie cosine. C'è un. Un ripiano. Esattamente. Dove metto tutte le mie cose. Me le guardo. Tutti i giorni. La. Belle. In fila. E mi danno. Tanta. Tanta gioia. Tanta felicità. Adesso. Partirò. Con qualcos'altro. Sicuramente. Perché sto cercando. Dell'altro. Da fare. Appunto. Grazie a queste creatrici. Creatrici. Che mi danno. Una grande. Tante ispirazioni. Io spero. Di aver ispirato. Anche voi. A fare qualcosa. Nel frattempo. Vi mando. Un grosso bacio. E ci sentiamo. Alla prossima. Ciao ciao.